Ciao, benvenuto al consueto aggiornamento ciclico per quanto riguarda la commodity petrolio con l'indicatore Volta. Andremo a vedere quest'oggi non solo il petrolio ma anche il gas. Devo recuperare l'analisi di ieri e farò quindi l'analisi doppie con gas petrolio, bitcoin, eth per quanto riguarda ieri e poi il nasdaq e l'NSP per quanto riguarda invece l'analisi di giornata. Velocissimi dopo la sigla del canale andremo subito a fare l'analisi sul petrolio perché si prospette multi day in qualcosa di veramente molto interessante. A per poco. Eccomi qui, se è la prima volta che stai guardando una mia analisi ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Sono Paolo Pesino, sono il fondatore del sito tradingpertutti.com, mi occupo di trading dal 2007. Ti invito a visitare il mio sito e prendere visione di quelli che sono gli strumenti che metto a disposizione. Innanzitutto il canale Telegram gratuito. Ti invito a iscriverti, comunque qua in alto troverai, troverai qui le schede dove poterti, con i link potete iscrivere al mio canale, ai miei servizi, servizio di segnali intraday sugli indici, vedremo velocemente anche i risultati, l'indicatore Voltime con anche il canale Telegram di supporto e poi il programma formativo dove spiego quello che io faccio, quindi come riuscire a fare l'analisi che faccio io, quindi come per vedere con largo anticipo che cosa farà il mercato, con quello che sono i metodi ciclici da me utilizzati e anche l'analisi volumetrica da me utilizzata. L'analisi volumetrica ovviamente è un'analisi che si occupa di spiegare che cosa sono i volumi, ossia un indicatore di momentum, che i volumi non hanno nessun potere previsionale, ma che sono eccezionali per poter entrare al mercato con tempestività da un punto di vista prezzo. L'analisi ciclica è l'unica invece, diciamo, branca, se vogliamo così chiamarla, dell'analisi tecnica, che permette di prevedere che cosa farà il mercato, poi una volta che si è venuto a formare naturalmente il setup corretto per entrare, ecco, che possiamo entrare al mercato sapendo già quanto potrà durare il nuovo movimento che si è appena formato. Oltretutto avrei anche a disposizione due ore direttamente con me per poter lavorare con il mio metodo e anche un anno intero di indicatore. Ma direi di partire al volo con l'analisi su il petrolio. Allora, petrolio, da oggi faccio così, tutti questi numeri nel passato sono, per carità, ma creano confusione, quindi togliamo tutto e metto solo i numeri nel futuro, che sono quelli che a noi servono. Sapere che nel passato le analisi sono state corrette, beh, basta guardare la sinusoide e lì ci fermiamo. Quindi andiamo a fare un po' di pulizia, perché sta diventando veramente molto fastidioso l'osservare il mercato, cioè i grafici con tutte queste cose. Allora, facciamo anche un po' di pulizia per quanto riguarda i livelli, perché adesso li faccio verdi, quindi sono un po' meno invasivi da un punto di vista del colore. Ok. Questo qui è lontano, lo lascio un attimo lì. Quindi andiamo a segnare i nostri livelli di supporto. Abbiamo una bella area supportiva posizionata qui, poi andiamo a vederlo sul future, ok. Questo è un livello di resistenza che lo vediamo a stavere molto, ma in realtà non è quello, ma il livello di resistenza è assolutamente questo qua. è questo, infatti il mercato è qua, che sta battendo, mannaggia la calamita. Ok. E poi cerchiamo di andare a capire livelli superiori dove possiamo andargli a trovare e poi andiamo ad analizzare quella che sarà la direzione che il mercato su base ciclica, quindi veramente su base statistica, dovrebbe andare a eseguire. Allora, tolgono anche il ciclo da 20 giorni, il ciclo da 40 giorni provvede nel suo picco nella data del 21 agosto 2023, ok, quindi ci andiamo a posizionare qua, quasi un mese intero di rialzo, e anche il ciclo da 20 giorni è molto allineato, quindi questo è veramente un vantaggio non da poco, quindi tra un 20 e un 21 di agosto abbiamo la fase di picco più vicina, quella più importante. Andiamo a vedere anche quelle che sono le date del minimo, abbiamo 20 giorni che vede come data di minimo la data del 10 agosto, ovviamente, di quest'anno, e 40 giorni che invece vede il suo minimo proiettato qua. Alla luce di quello che stiamo osservando è ovvio che l'unica direzione che potremmo andare a seguire è quella rialzista, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi segnale ribassista, da un punto di vista dell'analisi ciclica, non andrà preso in considerazione. Ricordo a tutti che questi non sono segnali per entrare al mercato, ma è soltanto uno studio su base ciclica per fare capire un metodo che può aiutare chiunque nei propri processi di decisione per un ingresso al mercato. Andiamo a prendere anche il future, facciamo un po' di analisi tecnica sul future del petrolio, quindi stiamo parlando di CL, in questo caso i dati sono CQG. Ma allora, i livelli abbiamo già tracciati anche di là, anzi facciamo scusatemi prima una bella cosa, guardiamo se c'è qualche trendline in più da tracciare, queste ormai che non sono più valide, le andiamo a cancellare, non servono più, questo è del ciclo a 40 giorni, è evidente che è anche sbagliato, 40 giorni è qua, ok, questo è un altro 40 giorni, ma chiaramente non è ancora confermato, quindi non lo possiamo prendere in considerazione, trendline ciclica ribassiste a 40 giorni, non ne abbiamo, abbiamo queste del ciclo a 80 giorni, però anche lei ormai non è più una trendline ciclica, quindi le vado a colorare di bianco, non è ciclica perché si sono formati chiaramente degli altri cicli, 80 giorni nel frattempo, e ne andiamo anche a vedere, ecco sono questo, questo e questo, e trendline, questa è già rotta, quindi non mi interessa più, questa è rialzista, questa non è ancora sicuramente confermata, anzi si era qua, e quindi anche questo e trendline ciclica 80 giorni, non la utilizziamo più, in realtà la vado a mettere lo stesso, perché per me sarà un bel supporto, questa è la trendline ciclica qui, 80 giorni, azzurra, eccoci qua, questo direi che la possiamo anche arrivare dalle balle, si la tolgo dai, la levo e va bene così, allora tre line tracciate, andiamo un po' a vedere, 20 giorni, 20 giorni, è tutto giusto il settaggio come varianza, sì perfetto, 20 giorni minimo e minimo, questa invece la possiamo sicuramente già tracciare, perché è ancora valida, e in questo caso sono tre line che accompagnano il prezzo, è proprio una schifezza la Metatrader, 20 giorni di ora, perfetto, allora andiamo a prendere un profile, facciamo un'analisi del profile, ok, quindi il resto è già evidenziato anche su Metatrader, questa è un'area abbastanza pasticciata, quindi possiamo considerarla di volume, però a me piace molto più questa qua, secondo me l'area più corretta, più che questo profile, è questo bel livellone, quindi io confermo assolutamente il livello tracciato precedentemente, non c'è anche stupido, niente, il volume è dovuto elevarlo, perché non ci pensavo più che è solo il giornaliero su TradingView, ok, a mio avviso è un bel, sta venendo a formare un bel setup, rendetevi conto che si è spostato da solo sull'altro schermo, così ha deciso lui, per me rimane un bel setup, una conferma, più o meno però intorno alla data del 10 di agosto, quindi ancora qualche giorno di pazienza, per andare a cercare ulteriormente un lungo rialzo per quanto riguarda il petrolio, e potrebbe essere interessante tutta quest'area, quindi per me l'area di massimi dell'11 di aprile, sarà un bel setup per poter andare a cercare una fase rialzistica, poi sarà l'ultima, perché intorno alla metà del mese di agosto, anzi verso anche la fine del mese di agosto, lo vediamo, inizia una bella fase di ribasso che avrà una durata stimata fino al mese di novembre, perché stiamo parlando chiaramente di cicli di durata superiore, quindi più grandi, ossia stiamo parlando della fase ribassista di un ciclo 20 settimane, quindi parliamo di molto molto lontani come fase di ribasso, e addirittura un ciclo da 40 settimane che anch'esso intorno ai primi di novembre, lo vediamo, inizierà, anzi i primi di ottobre, inizierà ad arrivare sul suo picco, quindi partirà una importante fase di ribasso che staremo a vedere se verrà confermata man mano che i cicli chiaramente verranno chiusi da il mercato, ma ho detto giusto novembre? Era ottobre, non so perché ho letto novembre. Perfetto, con questo direi che è tutto, adesso passiamo all'analisi sul gas, a brevissimo, cioè a tra poco. Eccoci con il natural gas, il natural gas in tutta sincerità non c'è assolutamente niente da dire, il livello di target 281 l'ha preso, però è un mercato che mi avviso completamente inutile al momento, inutile stare anche a perdere tempo nell'effettuare un'analisi, potremmo forse attendere una rottura di questa trendline per poter poi andare a generare eventualmente delle indicazioni per un possibile ingresso ribassista sotto livello, parlo di future, di 2.455, che potrebbe stendere a questo punto tutta la sua fase di ribasso fino al livello di 2.24 come area, quindi avere comunque l'opportunità di prendere un movimento abbastanza interessato. Fare un'analisi un po' più di profondo diventa difficile, perché è un mercato veramente, quello del gas, veramente, ma veramente al momento difficile da interpretare, molto molto bloccato nei livelli, diciamo di lateralità, qua sembra molto movimentato, ma in realtà se ne andiamo a normalizzare, noi vediamo che il gas è completamente fermo, no? Bisognerà attendere secondo me fine agosto e primi di settembre per vedere, credo, un rialzo del gas, se ci sarà la speculazione che c'è stata chiaramente anche nell'anno passato. Quindi è il momento direi per quanto riguarda il gas, attendere la conferma, la rottura dei minimi della giornata del 2 agosto 2023, intorno al 5-6 del mese di agosto, per andare a cercare una fase di ribasso, andiamo a spostare subito il minimo, minimo che potrebbe estendersi fino al 25 agosto 2023. Con questo direi che è tutto e ti auguro un buon weekend. Ciao ciao! Grazie a tutti!